Buongiorno a tutti, è già quattro edizione di Buon Dut Anja qui. Sono molto contenti di essere molto caro di Sina. Abbiamo insieme a 82 job Anja qui, quindi siamo in casa 1500 volontari arrivati a Awe, Comayang. È già quattro edizione, è una edizione molto speciale. Mi chiedo una parola per riuscire un po' a spiegare. Sì, grazie per l'opportunità. Mi ha avuto un'invitazione per una un'ottica esplicazione di come Anja di Sina. Quattro anni è importante per Buon Dut. E' anche la nostra buona Dut, di un tipo di team. Anja qui, è un po' a spiegare, una persona che è speciale per noi, che formano parte di nostro team per Anja. Anja qui è la Reina Sicilia, che fa il anno passato, perché è un anno qui e non ti per gioinare, ma non ti per ricordare, con un po' di cari, un po' di amor, ma non ti per ricordare, con un po' di cari, un po' di cari, un po' di cari, un po' di cari, e che mi ha avuto un po' di cari, 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 molti persone, mille di persone, non solo in Boneiro, ma anche in una altra isla, poi ci sono i nostri amici, i nostri amici, i nostri amici, e anche in una isla, e poi ci sono stati quieti, ci sono persone qui che ci ha inspirato, che ci ha inspirato un altro, per il lavoro che ci ha fatto, e che sempre ci sia gratuito per tutto ciò che ci ha fatto per noi, ma anche quello che ci ha fatto per noi. Abbiamo organizato un buon lavoro, ci sono volontari che ci sono molti importanti per la nostra comunità, e ci siamo aiuti a altri, ci siamo organizzati un buon organizzatore che non profit, quando non è un buon lavoro, sono quella che ci ha fatto per la comunità, a ci siamo aiuti a dover Cannes, ci non è normale, ci sono alcuni, ci hanno un buon lavoro, e quindi si siamo aiuti a preparare un buon lavoro, ci sono alcuni, ci sono state, ci sono stati a fare un buon lavoro, ci sono stati stati costo, ci sono stati costo un buon lavoro, in questo caso, ci sono stati sentiti un buon lavoro per un buon lavoro, ma proprio attenzione still a tutti noi. E invece ci ha fatto una parola, per amy, di Linda, Eta bestuurslid na ente o plattavorma, anto et in portefeuille volontario. Alla prossima, a sua possibilità di conoscere e conectare con differenti organizzazioni. Nossi esperti che connessano se poi si tratta un'altra alle, e ora non si linea per 2 anni. Nossi angio-plattafermo che ci sono moltiaderi a seguirci il vostro lavoro. Alcun sorsi, a sua web è portato scoperta di un'altra forma che ci sospita di un lavoro di questo lavoro, e che ci sono ricordati anche gli altri. Cognizzi il vostro lavoro di un'altra, aiuta gli altri e impoverà gli altri. Poi ora nasa si trabò volontario e aiutano con il tacco otro in us miss. Masa danke.